L'attuale sindaco della città di Firenze, capoluogo della regione toscana, ossia Dario Nardella, si è recato proprio ieri nella città capitale della Ucraina, ossia Kiev, per andare a firmare un accordo di tipo politico, per andare a sostenere e quindi aiutare per la ricostruzione proprio di tutte quelle che sono le città della Ucraina, coinvolte da una guerra che veramente è allucinante, una guerra non voluta da nessuno ma voluta solamente secondo me da sua maestà Vladimir Putin e lo stesso Nardella ha avuto un incontro di circa un'ora e mezza, quindi ben 90 minuti, proprio con l'attuale presidente dell'Ucraina, ossia Zelensky, e poi Nardella ha incontrato il sindaco di Kiev, Klikov, che è presidente dell'associazione delle città ucraine. Oltre alla città di Kiev, Nardella è stata in visita anche a Borodianca, a Irpin e a Buccia, che sono territori, vi ricordo, sconvolti da una guerra senza senso voluta fortemente da sua maestà, lo zà russo Vladimir Putin. È stato sottoscritto questo accordo per andare a ricostruire in maniera ecosostenibile tutte quelle città della Ucraina che purtroppo sono state letteralmente rese al suolo da parte dell'attuale zà russo Vladimir Putin, che ha voluto fortemente una guerra inutile e sbagliata e soprattutto senza senso. Detto ciò, grazie a tutti voi, utenti di Youtube, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao a Reado, narratore italiano.